buongiorno sure e buongiorno sure benvenuti in questo nuovo video oggi video un video che non ho mai fatto ultimamente lo sto dicendo spesso ma sto cercando di trovare video appunto per portarvi sempre cose nuove e veramente questo nome fatto i watch me my bag di averlo detto bene e lo vedo sempre nel canale della mia amica michela queen of fashion cremi e gli dicevo sempre prima poi lo farò prima poi lo farò e siamo arrivati al momento in cui ho deciso appunto di girarlo prima di cominciare prima di vedere qual è la borsa e cosa c'è dentro iscrivetevi al mio canale seguitemi perché faccio così quella campanella seguitemi su instagram attivate la campanella per non perdere nessun nuovo video e lasciatemi un like oggi c'è anche il sole una bellissima giornata e sono super gasata oggi quando c'è il sole sono felice e iniziamo subito allora la borsa è questa qui di michael kors che ovviamente non so come si chiama che modello è anzi se voi lo sapete per favore scrivetelo nei commenti così lo memorizzo magari per un prossimo video dove magari devo parlare di questa borsa allora questa borsa l'avete già vista nel video delle borse ma se ve lo siete perso ve lo link qui nell'info box anche perché ce ne sono cinque quindi andate le vedere allora apriamo la borsa ultimamente sto usando questa perché quando ho fatto il video delle borse mi sono resa conto che tante borse non le uso e per cui ho detto dai teniamo iniziamo da questa teniamo fuori questa qui anche perché ho delle scarpe più o meno dello stesso colore che si abbinano bene e quindi la sto sfruttando con quelle scarpe e poi la trovo comodissima comunque perché non è troppo grande ci sta abbastanza roba di allora prendere cose a caso allora la prima cosa che prendo è questa crema della sien che vi ho fatto il video che appena uscito quello della lidl ragazzi io mi sono innamorata di questa crema mi ricorda tantissimo quello di bottega verde e buonissimo l'odore di bottega verde che mi ha regalato michela un po di tempo fa e me la sono mangiata e questa qui è buonissima la uso tutte le volte che salgo in macchina metto prima la crema e niente la tengo sempre in borsa perché a me capita spesso che quando vado in giro poi mi si secchino e quindi io ho sempre la mia crema a mani in borsa e questa è quella di questo momento finché non finirà anzi di solito la metto nella pochette ma si vede che l'ho usata e l'ho lasciata fuori poi prendo questo qui che lo tengo sempre in borsetta sarebbe il spuzza si è un po un flash però è per rinfrescare l'alito e siccome quando ripeto quando sono in giro magari purtroppo bevo poco mi sento la bocca tutta brutta brutta delle volte mi viene il sapore di sale no allora mi spruzzo questo che mi rinfresca senza mangiare le caramelle ed è molto comodo poi tengo sempre un mollettone questi qui sono quelli di primark costano poco ma valgono anche poco perché tutto storto però fa niente finché non si rompono è comodo perché dopo un po sclero e ho voglia di legarmi i capelli poi tengo sempre dei lacci per i capelli porto tutti questi qua perché non ci lascio da soli li perdo invece così il cose grande non li perdo poi tiriamo fuori la mascherina del momento questa che punto ho usato ieri per andare a fare la visita poi cosa abbiamo che cos'è questo a dove sono andata a fare le unghie la parrucchiera che fa anche le unghie appunto queste qui mi ha fatto queste qui e qua niente mi ha segnato infatti lo devo conservare perché ogni volta che vado mi fa un segnetto e poi alla fine avrò uno sconto del 30 per cento e che non è male poi ho questa pochettina che infatti vi dicevo che quelle cose vi dovrebbero stare qui dentro allora questa qui non mi ricordo che pochette ah c'è scritto ecco no si è rotto vabbè adesso vi faccio vedere questa pochettina qui la uso oddio sempre in inverno perché ha questa trama di lana però vedo adesso con voi che è ora di lavarla e poi perché c'è questo dettaglio rosa fucsia e dentro ho un burro cacao questo qui della coca cola che ho preso sempre da si da si da è buonissimo sa tanto di coca cola che ho preso da primark poi un arco un'altra crema mani della eos che me l'ho tra l'altro dimenticata ecco è pure uscita no che casino è uscita la crema e si era crema a un buonissimo profumo anche questa me l'ho dimenticata sì perché questa qua l'ho appena messa dentro ma non mi ricordavo di avere anche questa quindi adesso le metto dentro insieme con il burro cacao e metto dentro anche questo così sono a posto e poi si è un po sganciato uno specchietto perché lo specchietto serve sempre questo qui non mi sa che sia rotto perso un pezzo c'è caduto sul tavolo e si è rotto ma tra l'altro mi sto accorgendo no che brutto che dentro non è specchio reale ma che cavolata ma che dove l'ho preso sto cosa niente questo lo buco via si vede che non lo uso mai è perché vabbè in macchina punti di giù lo specchietto della macchina e non lo uso mai quindi se non lo uso necessario poi ho questo pacchettino qui che c'è dentro un fazzoletto sempre sai di scorta non si sa mai che l'avevo preso nel mio hotel quando sono nata quest'estate a salerno poi ho questo che cos'è alla visita di ieri che ho pagato la bellezza di 152 euro ragazzi per la visita della tiroide poi ho questo qui che questo qui era un vecchio porta occhiali di cavalli di roberto cavalli che non mi ricordo neanche se c'erano più quegli occhiali lì e non mi ricordo neanche che occhiali erano fossero non lo so non mi ricordo e comunque come mi piaceva tantissimo al rosa come voi sapete ma c'è anche questa trama che io amo e dentro c'ho tutti vedete poi c'è tutto il rosa c'ho tutti i miei documenti perché non li tengo nel portafoglio c'ho le carte di credito i documenti così se qualcuno mi dovesse rubare il portafoglio non mi ruba i documenti perché poi è un casino rifarli tutti poi ho il gel quello sempre preso della sine questo qui con il fiocco di neve che dovrò attaccare qui anche se non mi fa impazzire attaccato fuori no non lo so teniamolo lì poi un pacchetto di fazzoletti un po brutto delle caramelle ols nel caso in cui appunto avessi voglia di bere in quel momento non ho l'acqua e non mi voglio spruzzare il coso di mangio una caramella e poi ho questo qua con questo qui che l'ho preso come ricordo da l'ultima volta che sono andata a mangiare da come che si chiama il mio ristorante preferito da gas fare abbiamo preso una bottiglia e aveva attaccato questo qui secondo che è bellissimo cioè uno si potrebbe fare un braccialetto con questa targhetta l'ho voluto prendere per ricordo dell'ultima dell'ultimo pranzo perché appunto siamo andati a pranzo pure bello pesante poi ho queste due gustine di gel che ho preso da gaspare lui le mette sul tavolo siccome ne mette sempre in abbondanza quelle che avanzano io me li porto a casa anche perché per quello che costa gaspare questi ci stanno me li possono miei poi ho la barretta la barretta proteica questa la tengo sempre guardo la scadenza ovviamente al limite la cambio perché delle volte il sabato io sapete che mi alzo sempre tardi magari faccio colazione ma poi quando siamo in giro ho fame ho fame e piuttosto di mangiare schifezze mi mangio la mia barretta proteica perché mi sazia ed è sana insomma per quanto questa sarà una barretta è e poi qua nella taschina o gli orecchini che siccome che non ho fatto in tempo a mettere queste dell'ultima uscita quindi da un po che sono qua non ho fatto in tempo a metterli a casa cosa faccio ma le mette in borsa e dico li metto in macchina ma poi in macchina non li metto questi qui sono gli orecchini che vi ho fatto vedere che costano 3 euro che ho pagato 3 euro in offerta se volete vi lascio il link di amazon e se volete perché sono veramente belli sono leggeri fanno la loro scena e solo 3 euro adesso non so quanto costano però potete tenerli d'occhio quindi vi lascio il link così andate a vedere e poi ho il libricino di michael kors che mi piace tenere dentro e poi vediamo è aspettate che c'è un'altra cosina un'altra cosina ok c'è l'orecchino questo qui che praticamente va messo qua oppure qua ma ogni volta che lo metto appena mi tocco i capelli viene via e quindi finisce in borsa perché l'ho già l'ho perso una volta e niente questo era tutto quello che c'era dentro nella mia borsa e volendo ci stava ancora qualcosina di più quindi vedete che di roba ce ne sta abbastanza anzi di solito metto anche un paio di occhiali di scorta che adesso non avevo non avevo perché saranno in giro per casa quindi spero che questo video vi sia piaciuto e niente il mio primo whats in my bag non ci posso credere se ne volete altri fatemelo sapere nei commenti che ho anche lo zaino che è pieno lo zaino è pieno perché prima di queste che prendevo questa borsa usavo lo zaino ma non ho messo tutto qua dentro quindi c'è della roba ancora vecchia che non so neanche io che cosa c'è in quello zaino se volete lo possiamo scoprire insieme e niente questo è tutto io vi mando un grosso bacio ci vediamo domani con un nuovo video ciao ma prima di andare via e raga facciamo festa sì ciao 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 Grazie a tutti